Il marzapane è una magica pasta che si modella e poi si può mangiare e la tua fantasia vedrai non basta per tutto quello che potrai inventare e le mandorle tritate per farne una farina lo zucchero più fino e tre gocce di limone e poi prendi un bell'uovo regalo di gallina ma usa solo il bianco e fai molta attenzione Ed ora l'opera gran pasticcere senza frullino, spatoli o bilance modella un regno ed il suo cavaliere è la regina delle mela arance C'è le mandorle tritate per farne una farina lo zucchero più fino e tre gocce di limone e poi prendi un bell'uovo regalo di gallina ma usa solo il bianco e fai molta attenzione Il marzapane è una magica pasta che si modella e poi si può mangiare e la tua fantasia vedrai non basta per tutto quello che potrai inventare